Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene ragazzi siamo in Grananas E oggi siamo con la sfida Mi stavo impicciando Con la sfida, con la sfida questa qua Chi indovina? 10 punti a Grifondoro O a 7 venti, dipende da dove sei Questo, cos'è? E' quello, è un barattolo Mamma mia, senti la spappa Comunque, è caffè, ogni gol Un cucchiaio di caffè E se non l'avete mai provato, sappiate che Questo è l'effetto Comunque, 1, 2, 3 All Star contro il Cars Luaire Vai così, vai Ma che? Si sta scuola totalmente bloccata Vabbè, cambio io Eh no, li dobbiamo cambiare tutti e due Mi spiace Vitego, ma re contro Rangers Si può fare Ma i Rangers quali? I Rangers Rangers Da no Ma è uguale? Parapara, squadra Vabbè, va Eh, vabbè, così No, così no Vai, vai, vai Si comincia Bambamia si apre lo stadio Vai, vai Io già sto a morire Oh, Mensa Mensa E' uno che a scuola mangiava sempre Low E' uno che rispetta sempre le regole Infatti non ho mai preso una munizione Ma c'è stato un travorino in ogni squadra? Si Cioè Davvero Pensava a mamma, voraccia Sì, va 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 Sì, è più che altro Cioè E rigore Giusto così Giusto così Ma gliela davvero Ricore Grandissimo Cioè gliela davvero Ricore Dai Ma che stai a dire Eh, giusto Ma guarda Tu strattoni Io rigore Io robot Vai Olè C'è una cosa più scambolosa di un'altra Va bene così Attenzione Attenzione Primo caffè Per te Dai, dammi il cucchiaino Dai, spiegate Cucchiaino? Hai chiesto un cucchiaino? Ecco il cucchiaino Aspetta Hai chiesto un cucchiaino? Ecco il cucchiaino Fammi da quello più grande Grazie Che merda Così, dai Mamma mia Te preferirei di il pallo Te giuro Povero te È buono? No, si può fuori Si può fuori Dai, magna No Dai, dai Ma andai giù, dai Non so Piano piano dai Non c'è, fa fretta Al massimo Fino al prossimo Colle Andai giù Che è? Vi parla Dimmi Non so 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 Ma andai giù Vai, aspetta Andai quasi peggio Pfff 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 Pordazione Pおい wasncala Alvez 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 Pum Paradco Nel Mesno P supporting All이라 O Cov Significa lui Il centro al centro fa un culo cazzo non è rientrato, cazzo non è rientrato ahhhh serio? Millen e c'è il 2 a 0 toncipoto tiii toncipoto si se si fa miseria m'ho sentito un male vai cazzo mi sta la cascata dai 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 che è bello il caffè, è buono il caffè È buono Mamma mia che schifo La cosa che ho pensato mentre bevo è che se era acqua volante usciva direttamente il caffè Coprilo Ci provo da fuori io Ma perché c'è sta più la grafica sotto? La grafica da che? Se vedono più i cosi, i nomi Ah, è vero Oh, adesso si McGregor Lo, lo, lo Oh, falla per black, black, black Black and Decker Naccia Eccolo di testa Al rete Di testa Alfonso Alfonso Uomo mio Dov'è il caffè? Dov'è il caffè? Dov'è il cucchiaino? Va a prendere il caffè e il cucchiaino? Il caffè sta là, il cucchiaino è là Grazie Andare bene Andare Andare Andare, vai Vai, vai Bocca al lupo quando vuoi ingogliare Vai, vai, cerca l'ingogliare, vai Tanto che fai Fa veramente schifo al cazzo Stacca, stacca, batti, batti Ti Beh, è buono, è buono il caffè Ti piace il caffè? Mamma mia Guarda che roba Ma che cazzo è? Non c'è che devo Senzacine brutta No per play No per play No per play No per play Dai, in qualche modo la pio però Quanto sei merda Bello così Mamma mia numero Incredibile Incredibile Vol'ultima azione Ci provano Fatto la cazzata Mortacci mia Mortacci mia Mortacci Grande, grande così Grande così Eccolo, no E finisce qui Due a uno Per me Se ritorna la vittoria Ho fatto sì il caffè Vaffanculo Era buono il caffè? Dicci tutto Com'era il caffè? Dicci pure te com'era il caffè Ma te ne hai sbagliato di più Capito che vuol dire Comunque Noi ci becchiamo al prossimo video E speriamo che questo video vi sia piaciuto Se volete una rivincita Scrivetecelo qua sotto Se vi è piaciuto Perché lui dovrà mangiare altro caffè Perché lui era un patito del caffè Sappiatelo Sì Cazzo Perciò Arriviamo di 4.000 like Pure di più E noi ci becchiamo al prossimo video di ogni gol Sempre il prossimo mercoledì Bella Ciao